Il pallone si ha portato Oh ragazzi ragazzi scusate ma com'è che Max è fatto incastrare dopo solo due mesi? Per me è rimasto in cinque No ma ragazzi si fa male qualcosa, oggi giorno c'è il divorzio, si stavi tutto in fretta Ma ragazzi ragazzi ma voi l'avete visto? Io si cioè è bellissima, io non capisco perché Max abbia aspettato due mesi a sposare una così, una così bella Dopo due ore ma dopo dieci minuti le chiedo di sposare Oh ragazzi è troppo bella, è bella, aspettate di vederla, è bella, mi sono innamorato di tutti Ragazzi qualcuno di voi ha già visto una sposa? Si io l'ho vista E com'è? E' carrozzata da Dio, poi ha un bilietro fantastico L'altro so che qualcuno dei ragazzi l'ha vista, immagino i commenti Si si poi loro parlano sempre solo di quello E davanti? Com'è davanti? Davanti Ti fa impazzire Poi secondo me ci dà dentro che è un piacere Oh ma secondo te Max me la presto per un giorno? Anche solo dieci minuti così per provare? Guarda, fai come vuoi Però secondo me Max la macchina nuova non la dà Senza Oh ma però io mi preoccupo perché voglio sapere con chi esce Tu la conosci quella ragazza là? Quale? Quella là? Oh Quella Mora là? No 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 mi piace No no Peccato Ma quel tipo lì chi è? Lo conosci per caso? No no Mi sembra simpatico però Ma per l'amor di Dio simpatico quello lì ma non vedete una persona poco seria Mi scusi eh Vieni che andiamo in chiesa Oh ragazzi è tardi se non ci diamo una mossa qua al mare non ci arriviamo più Io avevo pensato magari Leandro e Sandro in macchina con Ivan e Chiara no? Gli altri tre con me e Gino Scusa Marco venite con me che vi devo dire una cosa quella cosa là Vieni Gino Va bene ma va bene Vieni Gino Senti Gino volevamo chiederti una cosa Tanto che siamo due macchine piene più te Marco e Paola Ti darebbe molto fastidio seguirci in vespa Sì io in vespa perché? Dai così stanno in macchina Marco e Paola da soli Dai Gino sono settimane sto cercando di combinare qualcosa con Paola Dai dammi una mano ti prego Puoi mandare solo in macchina con lei eh? Ah sì sì ho capito Allora con le macchine tutto a posto Gino ci segue con la vespa E perché? Può stare in macchina con noi e dai Gino vieni con noi Ma no no davvero no Ma dai Gino ti prego dai vieni in macchina con noi eh? Beh allora se insisti va bene vengo in macchina con voi eh? Che ne so Scusa Gino Però io ti sono dedicato ti dovevo dare una cosa Vieni con me ti devo dare una cosa Vieni Gino Ma Gino ma sei scemo? Ma una volta che volevo dicare un favore dai Ma cavolo ma se me l'ha chiesto lui di andare in macchina con loro Oh Gino cazzo l'ho fatto a posto perché c'era la Paola no? Adesso si torna di là da lei e qualunque cosa accada anche se si dice di venire in macchina che no Dì che vuoi venire in vespa, hai capito? Ok va bene A posto? Sì Speriamo bene Andiamo Allora ragazzi dai Allora tutto a posto Gino viene con la vespa Eh sì ho cambiato idea così sono più libero più indipendente e prendo un po' d'aria Ok prendo la vespa Ma dai Gino vieni con noi Ma no dai Disturbo Ma come disturbi? Ma che scherzi davvero Gino te disturbi ci sono un sacco di posto o macchina Siamo solo in due Eh eh Sono solo in due Ma allora davvero non disturbo? Ma no che non disturbi E allora vengo in macchina con voi eh Bravo Gino Grazie Max Bravo Gino Grazie Gino Gino Eh vieni con la mia mano Ma no dai perché? Gino Ti accompagniamo noi Ma siete già in quattro? Siamo stretti Ma siete in quattro? Gino ti portiamo a voi Eh cosa c'è Paola? Gino sai noi due vorremmo stare un po' da soli Ah ho capito Ma perché non me l'avete detto subito? Che me l'avete stare da soli eh? Ma cosa vai a dire? Potevate dirlo prima? A me sembrava che semplicemente potevate dirlo prima Ma piatto Ma cosa potevamo dire prima? Ho ragione io Ah è anche colpa mia Cioè tu adesso stai dando la colpa a me A me sembra una cosa evidente Che se stamattina Tranquillamente Tranquillamente Mi dà ragione anche lui Cosa che dice per fare questo? No è una questione Scusate Scusate Marco e Paola sono andati via Tutto a posto Bene Allora c'erano quelle quattro sventole russe Che sono andate via anche lì No ma adesso Vogliamo andare anche noi o stiamo qui nel parcheggio Perché ci divertiamo? No ma adesso è vero Voglio dire Ci sono delle situazioni che mancherete secondo me A noi